Da anni contro la corruzione che l'Europa ci chiede in modo categorico dal 1999. Abbiamo una mezza legge ma non è sufficiente. Allora chiediamo alla politica che si assume di più la propria parte, ma anche noi come cittadini siamo chiamati a far di più la nostra parte. Il problema non sono i mafiosi, non sono i corretti, il problema siamo noi. È possibile che i migliori italiani non riescono a una rivoluzione delle nostre coscienze con più impegno, con più forza, con più responsabilità da parte di tutti.